I fiori di melo di pesco avvolti in un velo di ghiaccio sono ormai l'immagine simbolo di un clima impazzito che regala false primavere caratterizzate da elevate temperature diurne e severe gelate notturne. In Val di Chiana, dove i frutteti sono in pieno sviluppo vegetativo, pochi giorni fa il termometro ha segnato una massima di 21 gradi e attorno alle 5 della mattina è invece precipitato di 2 gradi sotto lo zero. Un salto dunque di 23 gradi nel giro di poche ore estremamente pericoloso per gemme e fiori. Ecco che scende in campo il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno con largo anticipo per difendere le piante dalle bizzarrie climatiche che rappresentano una minaccia per i futuri raccolti. Dalle immagini che stiamo vedendo risulta evidente quanto l'acqua sia essenziale per il mondo agricolo e lo è non soltanto d'estate nel periodo maggiormente siccitoso ma lo è anche adesso per far fronte alle gelate, soprattutto le gelate notturne della prima mattina che potrebbero mettere fortemente in difficoltà le produzioni e i raccolti. Per questo il consorzio 2 Alto Valdarno si è attivato già da giorni per mettere in funzione le reti e per garantire la risorsa idrica alle nostre imprese.